Questi bombardamenti non è che si bombardano al nord dell'Italia e al sud dell'Italia sicuro e non si sentono, no, a Gaza è piccola e i bombardamenti sono ovunque. I loro italiani quando bombardano con questi razzi che vedano due tonnolate, buttano giù un palazzo pieno di gente, anche distrugge quasi 300-400 metri all'intorno, spaventa i bambini anche all'intorno, non è che da noi si dice che morto è salvato, finito, non soffre più. Aspetta sempre, sta seguendo le notizie tutto il giorno, si parlavano gli ultimi giorni di un accordo imminente tra Hamas e l'Israele e loro hanno, come dire, hanno ricevuto la notizia con molta gioia, con molta speranza perché sono stufi, sono stanchi, sono malati, quindi loro vogliono che la guerra finisca oggi, adesso, senza condizione. Ma vediamo, l'unico risultato che abbiamo ricevuto dai negoziatori è che l'Israele vorrà una short term, una tregua, non cisse dal fuoco, la gente stanca, non vuole che la guerra si ferma per un paio di mesi e poi si continui, no, quando finisce, finisce, parta perché la gente stanca, vuole tornare a casa.